Il noir è un genere trasversale, derivato soprattutto dalla letteratura, dall'artboiled, dal genere criminale del letterario degli anni 20-30 in America, ma poi è diventato comunque più che altro un genere inteso come un colore, come un'atmosfera, come un tono del modo di narrare delle storie, per cui hanno magari derivazioni nel thriller, nel gotico, nel punk, nel dark. Insomma, il noir è un po' dappertutto, in questo modo è sopravvissuto fino ad oggi. E quindi insieme abbiamo cercato in qualche modo di creare un'atmosfera che riproducesse il noir e che, con un gioco di luci e ombre, costruisse un percorso all'interno della sala.